Sono Luca Scuassoni, sono un Riva Product Manager e oggi siamo con me in Sarnico per raccontare a voi dove è nata la riva. Questa è la linea dove abbiamo realizzato la riva Rama 44. Ci sono 4 stagioni e questa è la prima stagione. Iniziamo a predisposizione per l'innovazione e iniziamo a installare il primo cable e il primo pipe direttamente on board. Qui abbiamo iniziato a installare la macchina principale, l'innovazione e il tank fuel, e poi abbiamo iniziato a vedere il canto. Qui abbiamo iniziato il pietro sul pallone e abbiamo iniziato a vedere il canto, a formare il canto. Abbiamo spento 11 giorni per finire tutte le pezze di città e abbiamo applicato 20 lettori di varnizione. Il primo è in mano e il secondo è in spray. Questo è il ultimo passo. Qui abbiamo controllato il canto, abbiamo testato tutti i sistemi che abbiamo installato sui porti, l'innovazione, il sistema di porto, l'elettrico, 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 l'elettrico. E poi, quando tutti i sistemi sono stati e sono stati, abbiamo iniziato a testare il canto direttamente sul luogo. Grazie. Grazie. Grazie.